L'atletica leggera è un insieme di discipline sportive che possono essere suddivise in corse, salti e lanci. L'atletica origine nell'antica Grecia, essendo il correre, saltare e lanciare movimenti naturali. Il campo è formato dalla pista dove si svolgono le gare di corse di marcia e una parte interna per le gare di salto e di lanci. Le corse si dividono in corse di velocità e resistenza. In tutte le gare è prevista la partenza dei blocchi per aiutare l'accelerazione. Le corse di velocità si dividono in corsi ad ostacoli, corsi piane e staffette. Quest'ultima è l'unica specialità dell'atletica leggera ad essere a squadre. Le corse di resistenza si dividono in corsi di mezzo fondo, corsi di fondo e marcia. Quest'ultima consiste nella progressione di passi costante. Tutti i salti hanno quattro fasi in comune. La rincorsa, lo stacco, la fase di volo e l'atterraggio. I salti si dividono in salti in estensione e salti in elevazione. Il salto in lungo e il salto triplo si effettua sulla stessa pedana, composta da un rettilineo al termine del quale si trova una buca di sabbia. Nel secondo, lo spazio tra lo stacco e la buca viene coperto da passi particolari. Il salto in alto prevede il superamento di un'asticella dorsalmente durante il salto. Il salto con l'asta prevede una rincorsa al termine della quale l'atleta valica l'asticella con l'aiuto di un'asta. Nei lanci, l'atleta deve lanciare il più possibile lontano un attrezzo. Nel lancio del disco, la pedana è più grande del lancio del peso, così come nel lancio del martello. Nel lancio del giavellotto si effettua con una pedana rettilinea e con un attrezzo simile ad una lancia. Nel lancio del disco Nel lancio del disco Nel lancio del disco